Mi chiamo Laura Agostinacchio, vengo dalle Marche, da Porto dei Canati, mi sono laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche e ho scelto il Cosmas perché il mondo della cosmesi mi ha sempre affascinato, ma durante il mio percorso di studi non ho avuto mai il modo di approfondirlo meglio e ecco spero che da questo master riesca ad avere un'apertura a 360 gradi di questo mondo ed essere più preparata.